Sembra normale questo baccano, mi si sente dal corridoio in fondo Io ve lo dico, guardate che io la notte devo dormire e non faccio il cane da guardia, vero Giammaria? Ora maschi al piano di sotto, femmine al piano di sopra e io dormo sulle scale, buona chi confonde gli ormoni Domani signori giù a colazione alle 7 va bene? No alle 9 e mezza alle 7 Scusate ma chi è che ha fatto queste coppie nelle camere? No no no, così non vanno bene, non se ne parla E ragazze, ma cos'è sta puzza di fumo? Giammaria, fammi vedere cos'è lì Indovinate un po', sono le due, a letto Eh signorina, quella non è la tua camera, è fila di là, fila di là Ma io dico, ma con quello che ci pagano, cosa viene in mente a me di andare in gita? Fa bene la Carla che non le fa più da anni Va bene dai, se domani fate i bravi vi lasciamo liberi un'ora in più Ecco che non vuol dire spaccio libero, vero Giammaria? Eh signorina, scusi, lei ha intenzione di dormire in corridoio? Non penso proprio, fila in camera A me un po' il covid manca, sono sincera Grazie a tutti